Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Il traffico è il momento regolare sulla rete autostradale regionale e in FIPILI. Uno sguardo alle statali sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per cantieri tra Monteriggioni e Badesse. Per il traffico urbano di Firenze segnaliamo che nella notte tra il 4 e il 5 dicembre scatterà l'ultima fase dei cantieri in zona Stazione e Viale Belfiore. Tutte le modifiche alla mobilità sui nostri canali social. Per il traffico ferroviario all'Earostar Frecciarossa, 95.12, Salerno-Milano Centrale sta viaggiando con 18 minuti di ritardo. Il transito a Firenze-Santa Maria Novella al momento previsto alle 10.09, salvo recupero. Muoversi in Toscana Infia è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!